però chi ci casca dentro e qui c'è una delle frasi strane dell'Apocalisse chi non è registrato nel libro della vita fino alla creazione del mondo cosa si sta dicendo Giovanni che fin dalla creazione del mondo Dio ha già stabilito chi sarà salvo e chi sarà dannato se fosse così tutto sta roba andrebbe buttata nel cestino e dire ma cosa sta dicendo chi allora? è il modo ebraico per dire chi nonostante tutto quello che Dio ha fatto e sta facendo e farà per salvarti a tutti i costi vuol rifiutare vuol chiudersi in quell'altra logica la logica negativa qui ci vuole un po' di intelligenza dice Giovanni e per tutti no e quindi invita a stare più attenti a cercare di entrarci dentro di più e vedremo come questo entrarci dentro di più complica ancora di più la cosa le sette teste sono i sette colli sui quali la donna è seduta papale, papale per dire che città l'è che la lena che in realtà è quella lì è vero o no? di città adagiate su sette colli e il mio tanto è feo pensamente due mila anni fa non è che si trovassero da tutte le parti tutti i giorni è vero o no? quindi un modo papale papale per dire di chi si tratta è Roma la tua è quella sede dell'impero sono anche sette re manco a farlo apposta Roma ha avuto sette re prima di essere repubblica e prima di essere impero però sette per un ebreo può essere quindi il sette che dice il sette uno più uno più uno fino a sette ma può essere anche la totalità dei re e degli imperatori quindi una pienezza di potere imperiale potremmo dire però di questi sette cinque sono già caduti quindi gli imperatori passano la donna resta poi vedremo più avanti la donna passa il mostro resta quando è che il mostro sparisce? solo alla fine solo alla fine e questo ci dice finché durerà la storia la realtà sarà questa con cui fare i conti questo ci sto dicendo comunque di questi sette cinque sono già caduti uno regna ora il settimo non è ancora venuto quando verrà durerà poco e quindi dice proprio la provvisorietà di questi imperatori e infatti siamo già verso la fine del primo secolo è un periodo abbastanza complicato perché sono tutte guerre civili insomma a ogni morte l'imperatore che spesso viene ammazzato dai suoi gregari poi c'è una piccola guerra civile per decidere chi vince tutto e si prende il potere sarà nel secondo secolo che Roma si darà un modo di proclamare l'imperatore che per un secolo circa sarà più sereno più tranquillo perché sarà l'imperatore che c'è al momento che destina il suo successore e la cosa filerà bene infatti gli imperatori migliori sono nel secondo secolo sono quelli lì e filerà bene fin verso la fine del secolo quando il migliore di tutti di quel gruppo di imperatori sarà l'ultimo il migliore Marco Aurelio che combinerà un guaio e la cosa è così scorbutica da digerire che un uomo saggio come lui abbia deciso di mettere al suo successore un delinquente puro come Sophie Earl che una delle tesi degli storici è che suo figlio abbia preceduto il padre impedendogli di stabilire chi doveva succedergli e autoproclamandosi quindi ammazzando il padre è la tesi del film Il gladiatore è una tesi che gira anche su alcuni libri di storia dopo verificare se è vera o meno che è tutto un altro discorso che la son fa a chi ha le mani in pasta diciamo però può darsi comunque il meglio viene adesso la frase più complicata dell'apocalisse è quella che leggiamo adesso il mostro che viveva una volta e ora non più è l'ottavo re ma è anche uno di sette e va verso la distruzione definitiva ma se l'è tranquillo che ci porta in groppa la donna come fa a non esserci? prima roba seconda se è il mostro come fa a essere uno dei re che sono le corna del mostro cioè le teste del mostro terza cosa se è l'ottavo come fa a essere uno di sette ecco piccoli problemini e la fantasia degli esesietti con questa affermazione si è sfrenata nel dato proprio di tutte le bande ve ne riporto una o l'altra c'è chi dice che con l'ottavo che però è uno dei sette Giovanni pensa all'imperatore che c'è al momento come dicevamo Domiziano che è stato uno di quelli che ha perseguitato la chiesa in modo più sistematico di altri è l'ottavo ma nello stesso tempo sarebbe uno dei sette dice perché? perché voi sapete che nell'immaginario ecclesiale l'imperatore che più di tutti rappresenta la persecuzione verso la chiesa è Nerone che fra l'altro è chiamato in causa anche per il famoso 666 Nero Caesar in ebraico la cifra di Nerone imperatore darebbe anche questo 666 e dicono Giovanni dice in fondo in fondo Domiziano è una riedizione peggiorata di Nerone Nerone è il simbolo dell'imperatore che perseguita la chiesa Domiziano è Nerone al quadrato quasi una specie di reincarnazione di Nerone peggiorata rispetto a quel che era l'originale questa è una possibile lettura la teniamo per quel che vale ma come si può dire che questo è il mostro che questo ottavo imperatore che è uno dei sette è il mostro qualcuno dice sembra che con Giovanni ci voglia dire che la persecuzione portata avanti da Domiziano era così appunto particolare che guardando quel che succedeva Giovanni si chiede ma sarà davvero soltanto cattiveria sua oppure c'è qualcosa di diabolico dentro di lui che lo fa agire in questo modo quindi che corrisponde a un progetto a qualcosa che va al di là di lui stesso più profondo sono congetture non lo sappiamo comunque questo è davvero uno dei misteri dell'Apocalisse questa frase che sia questo ottavo re che è uno dei sette che però il mostro è lo stesso mostro che dovrebbe essere invece qualcosa di più dei singoli re queste cose ve lo dico perché se per caso sentite qualcuno un giorno o l'altro o qualche trasmissione che eh ma lì la gente non è d'accordo uno dice una cosa sì è vero è vero non tutto è chiaro comprendiamo già parecchio rispetto a qualche decennio fa o qualche secolo fa ma tutto non è ancora come vorremmo noi in particolare appunto quella frasettina è vero è vero è vero è vero è vero è vero